faccio una bella ripresa del papis style devo lasciare che se no vi dà un buono ciao ragazzi nuovo video oggi girettino tranquillo calma papis non succede niente tranquillo trading autogeno adesso non gli lasciamo troppa strada dai 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 e fermati no quando c'è il pezzo lì ci fermiamo poti fermi la sgolfi io mano ti ho scassato la scorrere 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 no vai vai che scorre questo è un pezzo 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 va piano stai tranquillo sembra che la seconda è meglio della prima grazie che è qui da che hai passato dalla? da quasi passa no è più facile ma no è un gradino ed ecco il papis versione 3 non è più facile io moro roby ed ecco che vola no è qua, è la è di sciapo qua ancora sbaglio a entrare incredibile ah, ce ti ho rovinato Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, no, qui ho capito, ma il primo salto, la prima discesa. Sì, no, qui ho capito. Sì.